Ad Agrigento per ricevere un premio, ma il premio più bello è quello di portare la propria esperienza, l'Aido che cresce, la sensibilità che cresce anche da parte dei cittadini nel poter dichiarare quello che è il proprio desiderio di donare agli organi. Sì, allora questo premio per me è veramente un premio prestigioso che però vorrei dedicare a tutti i volontari che ogni giorno in Italia stanno dedicando del loro tempo per promuovere il messaggio di Aido. Siamo 10.000 persone più o meno attive che ogni giorno si dedicano a questo. Per cui questo premio sono contenta naturalmente di riceverlo, però lo dedico veramente a tutti loro. Aido, sono 45 anni che ci dedichiamo a promuovere la cultura del dono e questo lo facciamo in tutte le occasioni in cui possiamo esserci. Per cui nelle piazze, nelle scuole, nelle conferenze, in tutte. Noi veramente ci mettiamo a disposizione di cittadini per dare a loro tutte le informazioni perché possano fare una scelta consapevole in tema di donazione. Lo possono fare tramite Aido, ma qui a Canicati lo possono fare anche in comune. Un appello faccio ai cittadini. Se siete sicuri, date la vostra disponibilità. Se invece avete qualche dubbio, prima di fare una qualsiasi scelta, informatevi. Aido è a vostra disposizione proprio per informarvi correttamente affinché voi possiate fare una scelta favorevole.